Il demone del moderno si presta perfettamente ad essere analizzato per quel che riguarda il cinema, fin dalla sua nascita, perché il cinema, la cosiddetta magnifica invenzione, è un prodotto del progresso della scienza, della tecnica, della industria, cioè è un tipico prodotto di Satana, che si identifica tradizionalmente per i poeti, Satana si identifica col progresso. E questa magnifica invenzione, fatta nelle officine Lumière, che vengono inquadrate nel primo film della storia del cinema. Quindi la magnifica invenzione la si vede per la prima volta vedendo la fabbrica dei fratelli Lumière dalla quale escono le maestranze. Le maestranze che sono chi le maestranze? Le maestranze sono i lavoratori, il proletariato, cioè un'altra espressione del demone del moderno, un proletariato che si affaccia all'orizzonte della storia come protagonista. Tutto ciò non è sufficiente al cinema, perché sì, la magnifica invenzione della tecnica, ma come dice Heidegger, che noi viviamo all'età della tecnica, ma l'essenza della tecnica non è tecnica. E infatti il cinema vuole evolversi, uscire, andare oltre la tecnica e diventare un'arte. Cosa che riuscirà a fare dopo vari passaggi, vari passaggi americani, i comici e Griffiths, nella Unione Sovietica, che è già Unione Sovietica. E sono le forbici poetiche, cioè il montaggio, che decidono che il cinema è diventato un'arte, un linguaggio autonomo capace di comunicare autonomamente con una lingua che è solo la sua, una nuova realtà. E questa nuova realtà è da un lato ancora il proletariato e dall'altro è la rivoluzione. Ma non basta. Non basta perché i colleghi tedeschi dei sovietici, dei vari Eisenstein, dei vari Pudovkin, dei vari Giga Viertov, i colleghi tedeschi cosa fanno? Mostrano che il mondo, che la realtà, che il moderno è dominato da mostri. Ecco, il dottor Caligari, primo mostro, il dottor Babuse, il giocatore, la volontà di potenza, altro mostro. E non sferato il vampiro, che è addirittura il demonio che viene a portare la peste in tutta l'Europa. Non a caso un grande personaggio, uno psicanalista freudiano americano, tedesco americano, dirà che il fascismo è la peste psichica. E infatti io dico lo schermo demoniaco perché cito il testo della Lotte Eisner sull'espressionismo tedesco, ma vi è un altro grande che si chiama Krakauer, che ha scritto un libro sull'espressionismo tedesco che si chiama Da Caligari a Hitler. Ecco, i mostri, i mostri del moderno, di questa civiltà mostruosa che diventano, diventano Satana stesso con il Faust portato sullo schermo da Bournau, dove la volontà di potenza di voler essere non solo immortali ma eternamente giovani, viene rappresentato come una forma demoniaca che con l'aiuto dell'amonio si può anche realizzare a patto di diventare demoni. Infine il panorama si chiude con due film teologici che sono la passione di Giovanna d'Arco che finisce con un rovo dove la pulsella d'Orléans perché ha parlato con Dio, perché è stata scelta da Dio, ecco viene inquisita, torturata e bruciata da dei monaci che in realtà sono demoni. E l'altra forma di testo teologico è quello che ho già citato, cioè il testo di Bournau, il Faust, che non a caso diventerà sinonimo di Satana, mentre Faust è un uomo che si fa Satana perché vuole essere eterno ed eternamente giovane.